Due mostre in una, la rioffiere dal 31 ottobre all'8 novembre, saranno ospitate insieme meci e mostra dell'artigianato, un'alleanza vincente per guardare oltre la crisi generata dal coronavirus. Valori per il futuro, home food, green and digital. Sono i temi che sono nati dopo questo periodo di lockdown, dove abbiamo riscoperto le nostre case, il cibo, il buon cibo e il territorio, il nostro territorio, quindi il green, quello che abbiamo intorno alle nostre case e non poteva mancare il digital. Il digital ci ha salvato sia a livello aziendale ma anche nella comunicazione. Senza le piattaforme digitali non avremmo potuto fare videochiamate, mantenere tutti quei rapporti che potevano scemare in un contesto di non visita rispetto alle altre persone. Una grandissima novità, ed è quella più incentivante secondo me, ma è anche un grosso sforzo da parte del comitato organizzatore, è il biglietto gratuito. Il biglietto gratuito può dare la possibilità a tutti, in ogni momento, di ritornare anche alla fiera. Quindi anche per l'espositore è anche un momento in cui può fidelizzare il partecipante, il suo cliente. L'altra novità, grande novità, è che Mostra Artigianato e Meci si sono unite quest'anno. Hanno unito le forze perché anche i temi potevano essere, quindi Meci ha come argomenti anche il sistema casa ed è molto correlato al nostro tema quest'anno e quindi abbiamo deciso di farlo insieme. Quindi noi vi invitiamo a essere fiduciosi e venire anche perché come comitato della Mostra Artigianato abbiamo insistito e saremo molto attenti per quello che riguarda la sicurezza della partecipazione.